Ciao a tutti, da me e dal mio cappello storto che mi sono messo da solo Finalmente a Bemus, video regali Questo in realtà è un cappello bellissimo che in una foto che vedrete dopo mi sono messo meglio E di cui parleremo Ma ciò che volevo dirvi è che se sentirete dirmi qualcosa, se mi sentirete dire qualcosa di incongruente Perché la maggior parte dei video risalgono a dicembre Ma tutti hanno fatto i loro video regali Quindi perché negarmi di farlo io anche se l'ultimo è arrivato oggi 20 gennaio Quindi buona visione Ciao Ciao a tutti Goalers, benvenuti in questo nuovo video C'è stato un periodo in cui quasi non speravo e non pensavo di riuscirlo a fare Poi nel tempo è arrivato qualcosa In realtà ci sarà anche un mio autoregalo, anzi inizieremo proprio da quello Perché ho fatto una piccola clip in quanto io ce l'ho al collo Ma vedete che sto già litigando con le collane mentre faccio il video perché ne ho un'altra E ovviamente sto venendo fuori prima quella Quindi il mio autoregalo è questo Nel frattempo starà passando anche una clip Perché sono abbastanza sicuro che non tirate quasi nulla Si tratta della giratempo di Harry Potter che Hermione ha utilizzato nel terzo capitolo Quello del prigioniero di Azkaban Secondo voi poteva mancare roba di Harry Potter? Assolutamente no E infatti le cose di Harry Potter non sono finite Una delle mie migliori amiche che è saluto Roberta Mi ha regalato la tazza con il Patronus dell'Essebunga Ma non è proprio un regalo di Natale In realtà io, lei e la persona di cui parleremo tra un attimo Adesso abbiamo finalmente la stessa tazza La cui foto starà passando in questo momento Se non mi seguite su Instagram Non l'avete già vista Seguitemi su Instagram Vi metto anche il nome Gli amici con problemi di vista potranno chiedermelo in privato Quindi Grazie a me Per la collana Grazie a Roberta per questa bellissima tazza È bellissimo il fatto che io, lei e l'altro abbiamo la tazza uguale Ma qui è l'altro, l'altro E Maurizio, il nostro migliore amico Che mi ha regalato Il copriletto di Harry Potter Devo mettermi in una cosa decente Perché magari mi viene fuori la confettina Oh mio Dio, è bellissimo Non so se riuscirò a farmi anche una foto a letto Perché con i cani è un po' un problema Facciamo che se ci riesco Ve lo metto nel montaggio Però non vi prometto nulla Lo faccio rivedere Un po' più vicino magari Bellissimo, bellissimo Grazie Maurizio, grazie davvero E il video Non finisce in realtà Perché mi hanno detto Che deve arrivare un'altra cosina Prima di Natale Per cui Io chiudo questo video Per voi passerà un secondo Per me qualche giorno Contrariamente a quanto immaginassi No Non è l'ultimo regalo Quello che vedrete Quindi per scaramanzia Adesso non vi saluto Un'amica di Grosseto Che purtroppo Non vedo Per motivi di salute Per questo che sembra sempre Che io non abbia amici a Grosseto Mi ha regalato questa Pochette No Così non si vedrà mai Così Multiuso Grazie Simona Tu sì che mi hai Alleggerito il soggiorno Rieccoci qui Mi scuso con le mie amiche Ma purtroppo Non vedrete più Proprio quella che è Una reazione a caldo Perché Ha avuto Problemi con OBS E per questo ringrazio Marco del canale Idee di M Ve lo scrivo anche Perché se no So che è l'istinto Quello di scrivere letteralmente Solo la lettera M Ma non è proprio così Per avermi aiutato Ad avere una corrispondenza decente Tra Quello che dico E quando parte La mia boccuccia Grazie Marco Grazie Marco Detto ciò Il primo regalo in ordine di Puro arrivo Ma non certo di preferenza Perché sono Stupendi Soprattutto abbinati E questo C'è scritto C'è scritto Giuro solenamente Di non avere Buone intenzioni In inglese La foto Della mia felicità Starà passando Adesso Più di questo Non posso Fornire Prendetevela Cono BS Studio E ieri Ero riuscito A riprendere La reazione a caldo Nell'ultimo regalino Ah Mi sono dimenticato Di dire che Questo regalino Era da parte di Alice Quindi ringraziamo Di nuovo Alice Speriamo Per il prossimo Video regali Che le reazioni Possano essere Veramente tutte A caldo E arriviamo All'ultimo regalino Arrivato ieri Che per me Era il 20 di gennaio Che Non volendo Senza saperlo E abbinato Con questo Ossia E l'ho già detto Bravo Riccardo Ripeti come papagalli Ossia Giuro solenemente Di non avere Buone intenzioni E per questo Regalino Ringraziamo Rinna Ciao Arigato E siamo giunti Alla fine Di questo video Sospirata Soprattutto per me Non tanto Per quanto Per quanto Sono arrivati i regali Bensì Per quanto Ci ho messo Ad avere un video Editing Decente Che adesso Riguarderò E io vi saluto Spero che questo video Vi abbia divertito Un minimo Ringrazio tutte 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 le persone Che mi hanno fatto Un regalino Noi ci vediamo Alla prossima Suggeritemi Nuove idee Perché veramente Sono a corto Completo E Iscrivetevi Soprattutto se non siete iscritti Attivate la campanellina Basta Ciao Non mi dovrete più sopportare Soprattutto se non siete iscritti